Quanto può durare un anno? Quanti scatti? Quanti salti? Quanti lanci? Quante emozioni, sorrisi, successi? Quanti ostacoli dobbiamo ancora superare per arrivare al traguardo? E quanti traguardi ci aspettano oltre quel traguardo? Quanti chilometri abbiamo percorso? Quanti raduni abbiamo condiviso? Quanti amicizie sono nate su un campo d'atletica? Quanto può durare un anno? Per alcuni la risposta è semplice. Basta contare i giorni sul calendario. Per loro l'atletica resterà sempre solo uno sport. Per noi è sudore e felicità, fatica e bellezza. È qualcosa di speciale che continua ancora a emozionarci.